Le foto sono forti e immortalano quanto sta avvenendo nelle frazioni montane di Tortora. In questi giorni alcuni cittadini ci hanno segnalato scempi del genere, ossia cinghiali che vengono decapitati e scuoiati sul posto. Una macellazione lampo, insomma, ma i resti della lavorazione vengono abbandonati, dove capita, e rimangono lì. Nel caso specifico, chi ci ha inviato queste foto ci ha spiegato che questi resti si trovano qui da ben cinque giorni. Un comportamento alquanto anomalo, difficile da spiegare. Secondo alcuni, gli autori di questi gesti preferiscono fare tutto velocemente perché ancora non è periodo di caccia, quindi potrebbero incappare nei controlli. Una spiegazione che da un certo punto di vista risulta lacunosa. La carne del cinghiale comunque deve essere trasportata, occultarla non è semplice, anche se viene macellata sul posto. Al di là di tutto, visti anche i tanti incendi che si sono propagati negli scorsi giorni nelle frazioni montane di Tortora, il territorio rurale del comune tirrenico necessita di rigorosi controlli. I roghi hanno lasciato grossi danni sulle spalle degli allevatori e degli agricoltori. Vero è che il consigliere di maggioranza, Franco Chiappetta, ha chiesto la massima collaborazione alla popolazione. Chi ha visto parli, siamo disposti anche a ricompensarlo. Queste le sue parole, ma lo stato di abbandono che si vive nelle zone rurali, come ha lamentato anche l'autore di queste foto, sta generando situazioni assurde. Urgono interventi. Grazie. 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 Grazie.